L'amministrazione comunale Rivana ha discusso nuovamente sul futuro dell'area ex-Cattoi e delle azioni da intraprendere nei prossimi mesi. Sul tavolo ci sono due mozioni che arrivano dalla stessa maggioranza. Una a firma di Isabella Iandarino, dell'UPT, la seconda sottoscritta da due consiglieri del PD, Betta e Giuliani, e praticamente da tutto il gruppo consigliare del PAT, Zanoni, Martini e Serafini, con la condivisione di Caproni e Pederzolli. Documenti che, con toni e sfumature diverse, rimettono al centro del confronto gli organi consigliari, Commissione Urbanistica e Consiglio Comunale. C'è stato solo un confronto interno alla maggioranza, fa sapere il sindaco Adalberto Mosaner. I confronti possono essere franchi, sinceri e accesi. È stato un momento per cercare di portare i due documenti ad un'unità condivisa da tutta la maggioranza. Il Comune e gli uffici di Palazzo Pretorio hanno già fatto presente alla proprietà dell'area ex-Cattoi che, rimarca Mosaner, il Comune ha 180 giorni di tempo per chiudere il procedimento, tempistica che si dilata se vi sarà la necessità di integrazioni. Tempi lunghi quindi per l'area ex-Cattoi, che i nuovi proprietari altoatesini non gradiranno di certo.